buongiorno a tutti ben ritrovati mi sembra che audio e video siano ok vi chiedo scusa se vi disturbo alle 16 e 30 del pomeriggio so che molti di voi riposano a quest'ora e mi dispiace anche se qualcuno deve appunto rovinarsi le dita nel compilare il form di iscrizione ogni giorno chiaramente una battutaccia però c'è qualcuno che si lamenta perché ogni giorno deve deve compilare il form di iscrizione e questo lo infastidisce non poco farò in modo chiaramente di recapitare direttamente un invito su carta intestata filigranata ovviamente con tanto di assistente per manovrare il mouse qualora appunto ci sia la necessità di passare da una piattaforma all'altra a parte gli scherzi alle battute siete come sempre tantissimi i soliti cento aficionado sono un po' a rotazione perché qualcuno riesce a star dentro e altri purtroppo non ci riescono mio malgrado però vuol dire che sta diventando anche un appuntamento abbastanza ricercato tutto sommato è quasi un club esclusivo e via dicendo beh cerchiamo di dare una motivazione positiva a quello che accade perché a me farebbe davvero piacere potervi accogliere tutti ma purtroppo non ho per il momento questa possibilità barra facoltà detto questo andiamo a vedere i mercati prima di dare un'occhiata ai mercati sì tipo diretta stadio bravo roberto prima di dare un'occhiata ai mercati ricordatevi solito disclaimer vi invito a leggerlo con grandissima attenzione la conferma del di questo tipo di approccio quindi disclaimer una direi discreta rigidità e severità anche nell'aprire gli account e vi dimostra che al di là di quella che possa essere la percezione di noi europei di noi italiani nei confronti della appunto della sede della location maltese del broker qui le cose si fanno comunque con grande serietà e con grande attenzione e questo credo sia vada a beneficio di tutti detto questo non perdiamo altro tempo e andiamo a vedere bella giovanni queste i massoni del forex è vero andiamo a vedere subito cosa succede sui mercati sapete tutti di quello che è successo nel primo pomeriggio alle 14 e 30 grandissimo dato america che è andato nuovamente a come dire capovolgere la situazione tecnica dei mercati direi di passire a partire subito con il dax per vedere un po che cosa gli è successo premesso che adesso sta rimbalzando come vedete ho pulito i grafici di tutte le trendline perché voglio ricostruire un po insieme a voi la situazione tecnica quindi adeguarla insieme a voi resistenza di lungo termine resistenza intermedia quello che poteva essere fra virgolette il target operativo di oggi questo su un grafico ovviamente in h4 scaliamo sul veloce in h1 e ci rendiamo conto qual è stato l'effetto del dato no fair payrolls davvero molto negativo pensate il dax si stava approssimando a raggiungere l'area target quindi la prima resistenza decente in zona 9.700 e invece dal punto di vista pratico come vedete tutto è venuto poi giù candela che ha nuovamente direi per la seconda volta sconquassato il mercato perché il mercato già ieri in verità aveva messo a segno una correzione che aveva stupito per profondità in quanto credevamo come credo ancora che si siano abbandonati i tempi peggiori per piazza affari e compagni però arriva sempre qualcosa che ruone rompe dei uova nel paniere e stamattina un po di debolezza è arrivata allorquando si è parlato di difficoltà su doish e via dicendo l'aumento dei tassi in effetti si allontana ma qui la mia sensazione giovanni ma in questo caso è una situazione squisitamente soggettiva e se vogliamo possiamo dire una derivante dall'esperienza non vorrei usare altre altre fare altre considerazioni e che l'ho larvatamente scritto anche stamane su facebook quale sensazione ma lo dicevo anche nell'intervento con viaggio ricordate l'altro giorno troppa gente long c'è troppa gente già long sembra essere quasi tutti posizionati per questo grande rimbalzo e mio malgrado come appunto ho detto due giorni fa questa è una sensazione per me non positiva perché il posizionamento così efficace effettivo immediato dinamico di molti piccoli operatori in posizione long non mi lascia dormire sogni tranquilli perché raramente il mercato va dove purtroppo la massa si è già posizionata peraltro in grande contestualità con la divulgazione di questo dato anche questa cosa l'ho anticipata intendendo come anticipata chiaramente postata non che io abbia il dono della preveggenza assolutamente ho anticipato anche questa particolare situazione anche loro prima del dato è andato appoggiarsi direi con una precisione estrema sull'area di supporto dinamico strutturale dell'attuale situazione stamattina ho segnalato questa cosa occhio loro prima dei dati si poggia lì e quindi sarà comunque un effetto dirompente mi sembra che loro questo effetto dirompente eccolo qua lo abbia realizzato pensate voi dare a 1106 ad area 1140 40 punti di rimbalzo mostruosi che sanno dimostrare che molla in carico c'è su questo asset andiamo infatti a vedere la situazione tecnica dell'oro quindi procediamo un po' guardando anche quelle che sono le dinamiche da interpretare nell'immediato senza la consueta il consueto ordine se vogliamo ma diamo la precedenza le cose più allarmanti o comunque più evidenti un oro che sta ritentando dopo il falso breakout della passata settimana e dopo aver messo a segno come vedete un impetuoso rialzo sulla tenuta di questo supporto dinamico chiaramente con qualche pizzico di volatilità ma ci può stare comunque parliamo di un asset che non è sicuramente fra i più liquidi in termini di scambio sui cfd ovviamente quindi dal punto di vista pratico una shadow di volatilità però quel supporto ha tenuto quel supporto ha tenuto e in questo momento come dire fa da trampolino di lancio vero e proprio verso una inversione di lungo termine del gold quindi attenzione non mi sembra che sia una figura tecnica da sottovalutare tecnicamente parlando sembra che abbia convinzione e forza per violare al realzo chiaramente convinzione e forza questo è l'h4 max che è subordinata a come avete visto a un indebolimento del dollaro perché oggi il dollaro si è indebolito e l'oro ha avuto chiaramente spazio per il rimbalzo indebolimento del dollaro che si va a riverberare positivamente sul gold e negativamente sui listini azionari questa almeno è la situazione attuale dal punto di vista operativo attenzione perché ci tocca considerare se non nel lungo quindi in daily possiamo considerare un falso breakout scalando in h4 il recente massimo relativo va considerato secondo me graficamente quindi rettificherei l'analisi del lungo abbiamo visto la situazione sposterei un po più in alto il punto di breakout del gold il che mi porta a pensare che possa fare 1150 senza che questo vada ancora a provocare il breakout operativo al rialzo quindi attenzione perché quando loro arriva in quella zona è una cosiddetta ultima chiamata per il dollaro americano e vi ricordo perché siamo sempre interessati al dollaro americano perché è correlato direttamente con gli asset cosiddetti correlati al bene rischio e quindi in particolare le azioni sì giannetto chiuso il silver chiuso tutto oggi ci sono state diverse operazioni nella volatilità post jelen vedete questo è il mio conto chiuso sempre con voi lo sapete questa è l'operatività di oggi durante il dato jelen vedete 15 e 30 15 e 31 tre stop su dollaro ien australian dollar new zealand ed euro dollaro e quattro target invece su new zealand franco svizzero yen e serlina dollaro alla fine una giornata che poteva essere molto negativa si trasforma in un sostanziale nulla di fatto da quando abbiamo iniziato a giocherellare un po con questa piattaforma demo per dargli degli spunti operativi siamo comunque ancora mille cento euro sopra quindi va bene così non abbiamo grandissime come dire ambizioni il dato jelen sono è quello dei no firm payrolls che porterà la jelen arturo a dover sicuramente rinviare l'aumento tassi e qui adesso si scontrano due partiti perciò ritengo che sia un movimento come dire quasi indotto al mercato non mi sembra un movimento intelligente puro perché da un lato questo dato negativo allontana la necessità di rialzare i tassi il che che era il timore che l'europa aveva quindi tecnicamente parlando può essere anche letto in maniera in maniera in maniera positiva i mercati sono scesi perché temevano l'aumento tassi poi sono sono quando la jelen non li alzati ha detto però li alzerò ad ottobre sono scesi ancora adesso che sostanzialmente viene quasi sancito che quest'anno non li può alzare alla luce dei dati macro che arrivano degli usa si scende ancora bu mi sembra che qualcosa non torni e quindi sono confidente nel fatto che magari mentre farlo ci possa essere un buon rimbalzo sull'azionario non lo so non voglio sbilanciarmi più di tanto ma non sono convinto che questi saranno i valori di chiusura di stasera ritengo che ci sarà una ricopertura dei minimi un po esagerati ed esasperati che sono stati fatti oggi sul come sul mercato fra le altre cose ma ci arriviamo poi notavo che anche a livello di azionario c'è un bel rimbalzo in corso soprattutto sul monte paschi di siena da qualcosa non mi dispiace perché sono long purtroppo alziamo bandiera bianca su telecom italia però la performance di monte paschi inizia a farsi davvero molto interessante e ripaga un po il coraggio avuto nel interpretare un titolo che notoriamente non trado come arrivato finalmente ad un punto di inversione importante vediamo un po che cosa succede la piattaformazioni è già pronta e come sapete la guarderemo nella fase a seguire del nostro webinar intanto monte paschi più 4 per cento secco oggi la qualcosa non può che farmi piacere ribadisco l'idea barra obiettivo che possa arrivare in area 178 1 80 abbastanza facilmente giuseppe mi dice che non si sente mi confermate se avete lo stesso problema anche voi per favore falso mi dicono tutti che si sente pare sia un problema solo di giuseppe fermi siete cento non date tutti lo che ok mi è chiaro perfetto adesso recuperiamo ordine e le due diciamo che i due grafici che volevo vedere velocemente con voi erano in particolare il dax che è stato quello che ha evidenziato il maggior cedimento come sempre negli ultimi giorni e il gold adesso recuperiamo coerenza dollaro yen che cosa succede qui qui succede vi ricordate il wedge di cui stiamo parlando in maniera noiosissima se vogliamo da diversi giorni quindi questa zona coloriamo di blu queste trend line se no almeno a me da fastidio vederle di questo colore ecco questa zona di congestione che abbiamo direi lavorato in maniera abbastanza interessante negli ultimi giorni è stata rotta questo livello aggiorniamo quindi nuovo livello supportivo è diventato una semistatica da cui come vedete il dollaro yen in questo momento sta disegnando una classica figura di inversione un hammer quindi si sta girando verso l'alto l'hammer che nella zona opposta è un engine man è un impiccato è una figura in cui sostanzialmente si vede vedete si vede un corpo molto lungo della candela praticamente il mercato ha aperto per un po' rappresentarvi come si è evoluto anche se poi arriverà l'academy in cui parleremo anche di queste cose praticamente abbiamo aperto quassù in pratica siamo scesi fin sotto e stiamo recuperando completamente e questo normalmente è una figura molto positiva perché indica un rientro da un eccesso di volatilità quindi dollaro yen per quanto abbiamo lato un supporto dinamico abbastanza evidente si ferma diciamo così sul gradino successivo entra in una palese zona di iper 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 venduto ma questo è normale dopo questo dato distruttivo dei no fan per olsi ci toccherà ogni inizio mese il primo venerdì di ogni mese ci tocca subire tutta questa volatilità sui mercati che vi piaccia o meno è così i mercati oramai si sono allineati a questo dato facendolo diventare il sacro graal di ogni situazione come vedete questo è il contesto tecnico attuale quindi siamo in una fase di rimbalzo da eccesso di venduto nulla di più potenzialmente una candela h4 che potremmo definire di inversione direi che nuovi ribassi dei listini azionari sono da considerare scongiurati nel brevissimo fino a quando appunto dollaro yen si manterrà di sopra di quest'area di supporto dinamico quindi il minimo di oggi è un po se vogliamo lo stop loss di chi ancora ha posizioni longhi sull'azionario come me se vedo dollaro yen che lì va giù chiaramente devo monetizzare e portare a casa nel bene o nel male perché secondo me si aprono profondi spazi di discesa un occhio anche all'euro dollaro che coerentemente reagisce al contrario denotando però grandissima precisione guardate bravissimo ettore bravo grande ettore mi fa piacere che tu mi abbia anticipato ragazzi miei questa è l'analisi tecnica allora il valore predittivo di una stupidissima trend line di resistenza guardate qua 1 e 2 li sapevamo già da diceversi giorni il terzo punto di contatto è la famosa resistenza andatevi a sentire le registrazioni di cui stiamo parlando dal giorni tac che arriva lì e si ferma dollaro yen arriva lì e si ferma euro dollaro si ferma su un'area di resistenza dinamica non statica molti mi chiedono perché lavoro con le dinamiche perché vedo cose che mi fanno venire veramente mi fanno girare la testa impressionante questa colgo l'occasione per dire che da trend follower io qui devo entrare short ricordatevi sempre che le mie sono simulazioni quindi avete ben letto il disclaimer vi assumete eventuali responsabilità se decidete di seguirle però qui io tecnicamente vado short vendo un lotto di euro dollaro vado ad impostare un'operazione da nelle prossime settimane ho intenzione di impostarle con le meccanizzazioni quindi come scrivo spesso stay tuned perché iniziamo a usare gli expert advisor che poi distribuiremo a tutti i clienti di tier 1 fx vado short adesso mi metto una cinquantina di punti di stop o comunque sopra la resistenza mi metto in area 1 13 30 stop e al target chiaramente punto a questa base inferiore l'area 1.11 adesso quindi una base diciamo così statica livello che potrò poi aggiornare col passare del tempo perché sapete bene che secondo me il vero target di euro dollaro è un po più in basso vado a vendere un lotto al mercato vediamo perché non mi escono le linee evidentemente non era flaggato eccolo qua come vedete in questo momento ho un rapporto rischio rendimento particolarmente efficace rischio questo stop ma fra virgolette rischio questo tipo di guadagno ovviamente un work in progress andrò ad adeguare l'operazione man mano che la situazione si evolve spread stretto ho pagato 0 0 0 1 e mi è stata immediatamente applicata la mia compissione complessiva di 5 euro quindi niente di particolare il famoso 3 più 3 in dollari e spesso poi in euro questo è il balzello che devo al mercato e niente di più federico mi dice short di breve max si freddy è entrato al touch bravo 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 freddy l'hai beccato sul punto di impatto preciso meglio di come sto entrando io adesso sicuramente anche se chiaramente bisognerebbe non anticipare l'entrata una resistenza è tale se resiste quindi bisognerebbe valutare appunto che senta quei livelli si vede meglio in h1 vedete guardate in h1 come ha fatto tre candele di test di questa resistenza in h4 se ne vede ovviamente solo una ne ha fatte già tre e sembra fra virgolette permettetemi il termine sentirla molto bello constatare in questa struttura di euro dollaro h1 per gli amanti come me delle divergenze che il grande balzo che c'è stato fra virgolette da fra ieri e oggi quindi grande recupero guardate divergenze in h1 a cui avremmo associato resistenza dinamica se vogliamo parlare della tecnica e poi accelerazione rialzista né più e nemmeno quello che mi sentite dire è chiaramente divulgare da diverso da diverso davvero da diverso tempo a vi non so chi di voi sarà a milano al tolexpo io ci sarò farò un intervento nello stand di trading library il 27 se non sbaglio di mattina probabilmente stanno per mandarmi gli orari precisi mi farà piacere chiaramente incontrare chi di voi dovesse partecipare a questa interessante manifestazione che si svolge a palazzo mezzanotte la vecchia sede di piazza affari mentre io parlo e dico stupidaggini marco mi fa notare che c'è un gran recupero in essere sull'azionario un recupero a quanto pare abbastanza diffuso bravo antonio così ci incontriamo si vedo un bel rimbalzo dei petroliferi di saipem in particolare buona cnh industrial ma lo vediamo dopo si confermo che c'è rimbalzo e recupero sull'azionario rimbalzo e recupero che ripeto che ripeto marco si legge anche guardando cosa sta facendo euro dollaro e dollaro yen ok ovviamente al tolexpo potrete accedere allo stand confermo e giuro senza compilare alcuna scheda di iscrizione potrete venire lì senza neanche dire il vostro nome e cognome al limite se vi verrà richiesto un disclaimer farò in modo che voi possiate mettere una semplice x o la metterò io per voi detto questo per quanto riguarda come dire il euro dollaro e dollaro yen si confermano a vicenda fra virgolette il dax ecco confermo sta rimbalzando si vede meglio in h1 vedete che candela di recupero sta facendo attenzione il trend fra virgolette di lungo quello di stamattina è lontano non possiamo parlare mi permettete di scalare in m15 eccolo qua cerchiamo di vedere cosa deve fare oggi cioè quella che la struttura delle ultime ore inutile ritornare a fare voli pindarici su quello che doveva essere non è stato per ora per ora quello che ci possiamo attendere sul dax che vada pulveccare quest'area supportiva quindi che questo a lungo si spinga verso la zona 9.600 9.600 e se riesce ad annullare questa discesa entro stasera ce lo troviamo a 9.690 è presto per cantare vittoria ma non c'è dubbio che il rimbalzo sia consistente vediamo quanto ha recuperato dalla decelerazione post post dato siamo al 50% preciso quindi attenzione è un momento abbastanza importante anche guardandolo su una chiaramente dinamica di brevissimo come francesco evidenzia si supporto dinamico mensile quello storico e il tuo collega francesco a suo suo anche il suo nome francesco ha evidenziato tempo addietro in effetti sta continuando a sostenere queste come dire ventate di pessimismo che si stanno abbattendo su francoforte con maggior violenza rispetto ad altri mercati per le note motivazioni vedi Volkswagen e vedi recentemente anche qualche rumors non particolarmente positivo addirittura su Deutsche Bank c'è da dire eccolo vedete meglio in daily che comunque si è creata una zona statica di supporto un po' larga è un grafico giornaliero ma questa fascia verde che vedete è sicuramente una zona statica supportiva se vogliamo in termini di commodity channel index abbiamo un cci crescente me lo riconoscerete abbiamo invece un asse prezzi decisamente decrescente questa tecnicamente si chiama divergenza o meglio logica divergenziale rialzista perché purtroppo si manca una secondo un secondo pedice apice pedice un secondo pedice ben definito un secondo una seconda configurazione di un minimo relativo sotto area 150 almeno però dal punto di vista pratico è un'anomalia fra andamento prezzi asse prezzi asse indicatore quindi teniamo ad occhio il DAX perché è il termometro della situazione proprio per le o guardate come cerca di spingere e per il momento fibonacci 50% sta contenendo conoscete tutti i fibonacci immagino se non lo conoscete fate l'academy e ve ne parlerò sono un aficionato di fibonacci ovviamente se ci fate caso il fatto che io sta puntando a rialzo in italia al rialzo sull'azionario è testimoniato dalla vendita di euro dollaro no perché la correlazione è inversa quindi io mi aspetto un dollaro che si rafforzi quindi vendo euro e compro dollari che più o meno è la stessa cosa che comprare in questo momento rischio ed azioni diamo un'occhiata anche al Nikkei un Nikkei che stanotte ce ne farà vedere delle belle sul dollaro yen ci siamo già espressi questa è la nota correlazione eccoci arrivati al petrolio 44.39 qui attenzione ci risiamo un'altra volta mi sembra di essere Giuseppe Di Vittorio ecco la base di questo enorme enorme wedge che ha avuto peraltro una caccia ha avuto una caccia ai tori ieri mostruosa un falso breakout attenzione sì sì non Nikkei stanotte Francesco anche per te Giannetto ovviamente oh ragazzi io sparo 8.000 parole in un'ora non potete pretendere che dica solo così intelligenti qualche stupidaggine la devo sparare né tanto a parte gli scherzi ovviamente parlo di lunedì dal punto di vista pratico questo invece è l'endamento del petrolio e operativamente parlando come vedete siamo prossimi al test di area 44 area 44 un supporto statico molto importante andrà monitorato mi permettete di scalare in h1 e vediamo come si potrebbe tradare il petrolio nei prossimi minuti barra ore potremmo appunto aspettare il test di area 44 quindi aspettare che il petrolio venga su quest'area prezzo usd cad infatti non è forte c'è un disallineamento ettaro in questo momento lo vedremo fra un po' affiancare alla dinamica test del supporto dinamico una resistenza e qualora post test del supporto dovesse reggere potremmo aspettare il breakout di questa resistenza che ho appena tirato per entrare long c'è molto spazio perché qualora il breakout come presumibile attendersi stante la logica di far passare il tempo avvenisse dopo il test il breakout più o meno in quest'area quindi con un delay temporale notevole andremo a breccare in area 44 50 con un rapporto rischio rendimento interessante perché lo stop sarebbe 43 90 43 85 il target come vedete 46 largo detto del petrolio eccoci qui all'altro signorino di cui vi ho parlato in apertura il gold come ci siamo già espressi al riguardo occhio all'area 1150 perché la vera resistenza di oggi al di là di questa candela di esagerazione allo stato puro perché se il se il gold la rompe non la rompe per fare un giochino di tre giorni partita rialzo ovviamente l'argento vi parlavo da diversi giorni del ritardo strutturale dell'argento rispetto a loro mi piace io l'ho usato oggi l'argento se non sbaglio l'ho chiuso poco fa se non ricordo male forse l'ho chiuso ieri forse l'ho liquidato ieri no guardate l'argento mi ha stoppato di volatilità guardate che fregatura stop loss sempre in macchina non mi pento assolutamente mi ha stoppato di volatilità quindi sulla notizia in area 14 43 d'altra parte non era fortissimo prima della notizia salvo poi andare a 15 ci sta fa parte delle regole del mercato avevo uno stop molto stretto era entrato a 14 59 avevo rischiato massimo 14 43 con uno 0 50 in termini di lotti avevo target 15 che avrei preso eccolo qua a 15 0 7 peccato ma ripeto preferisco essere stoppato piuttosto che vedere a zerare un conto quindi dal punto di vista operativo l'argento mi sembra che sia entrato in buon feeling insieme a loro con il mercato mi sembra che in questo momento sia abbastanza interessante la resistenza che sta per arrivare e quindi occhio occhio perché se l'argento si porta anche lui sopra area 15 e 20 a rottor di alzi in maniera definitiva allora ciao pietro ci siamo incontrati quest'estate a malta sono francesco ricordi onestamente non ricordo ma non è un problema ciao francesco volevo farti una domanda su cosa pensi di uno short sterlina dollar a 152 50 andiamo subito a vedere il cable e anche perché ci sa ecco era il prossimo neanche a farlo apposta eccolo qua 6 short a 152 50 vado short era sicuramente ben strutturato e ben posizionato sulla sterlina che oggi ho utilizzato per compensare un po di stop su altri settori eccola qua 800 euro sono long l'ho chiusa semplicemente per monetizzare qualcosa visto che ho subito degli stop sono long come idea da 151 e 30 ho chiuso tutto a 152 29 una figura quasi piena e perché sono long e quindi purtroppo non condivido il tuo posizionamento short perché esatto max bravo ne sto parlando da diversi giorni divergenza rialzista a cui ho associato questa resistenza dinamica e per me da quando ha breccato la resistenza dinamica quindi da qui dove sono poi entrato fare altre cose la sterlina è long e long con target potenzialmente ambiziosi senza però dimenticare trascurare il fatto che se il mercato premia l'acquisto di dollari sterlina non è che possa fare miracoli come speriamo che sia per vedere recuperare l'azionario come vedi non ho riferimenti intermedi o come piace a viaggio oramai siamo diventati troppo amici abbiamo anche cenato insieme abbiamo cenato insieme anche ieri sera è stata un'occasione piacevole per rincontrarsi dopo tanti mesi e a livello statico potrebbe addirittura fare abbastanza facilmente area 153 37 dal punto di vista invece squisitamente legato alla situazione attuale sono meno friendly su un rialzo della sterlina perché sterlina long vuol dire dollari short e mi sembra che in questo momento il rimbalzo dei mercati sia basato sull'acquisto di nuovo di dollari e mi sembra infatti in h1 si vede meglio eccolo qua perché sta un po arretrando quindi la conclusione non mi piace il tuo posizionamento short a livello di lungo nell'immediato a francesco sì allora vi racconto la storia di francesco di cui non dico il cognome perché può sembrare scherzi a parte e io l'avevo scambiato per uno scherzi a parte sono a malta in bermuda a passeggiare a un certo punto mi fermo e mi fa ma tu sei pietro pacello detto questo mi vuol prendere per i fondelli però sarà un eufemismo e poi però gli ho detto di sì ah io ti conosco ti ho seguito qui e là insomma ecco ora mi ricordo di te francesco eri in vacanza con la tua famiglia ricordo benissimo quindi l'idea di francesco è non sono ancora short ma se tocca 1 52 50 ci voglio andare ti ribadisco il mio ni non sono convinto non vedo una motivazione tecnica per shortare almeno lo stato attuale vedo piuttosto una motivazione tecnica ma questo ripeto sono di parte per rientrare long se mi va a appoggiare su quest'area di supporto dinamico che adesso faccio vedere meglio in h1 non vedo short sterline in questo momento anche perché ragazzi miei sapete il trend è vecchio cioè è partito prima shortare adesso la coda finale dopo che viene giù da 1 56 mi sembra assolutamente un po troppo pericoloso nicoletta la domanda classica di nicoletta perché le domande di nicoletta come quelle di tutte le donne sono sempre molto specifiche senza fronzoli e la sua è secca buongiorno ma il fib può ritornare a 21.000 non mi lasci mai lo spazio per dire ma sì forse vorrei no non riesco a ad aggirare l'ostacolo allora dal punto di vista squisitamente pratico ti devo dire la verità a me sembra che stia rimbalzando con discreta decisione un po tutto quindi sono convinto che potremmo brindare forse stasera allo scampato pericolo e a quel punto dopo che hanno fatto due due false partenze non credo che il mercato sia disposto ad aspettarli ancora a lungo i signori money manager sono della mia idea in questo momento è che ci sia chi non ha ancora caricato bene le cartucce sta cercando di contenere un po il mercato questa è la mia idea quindi tante false partenze che però permettono a chi ci crede di accumulare su livelli prezzo abbastanza bassi questa è la mia considerazione attuale fra le altre cose questo è il grafico del fuzzimi b indice in h4 c'è la mia adorata divergenza rialzista come portante quindi io ricordo se non ricordo male che sei short nicoletta da 28 27 50 se non ricordo male oggi hai probabilmente avuto un ottima occasione per uscire dallo short sacrificando qualche basis point ecco ricordavo bene però fino a quando a questo punto si è creato un triplo massimo l'avete visto in h1 si vede meglio fino a un doppio massimo fino a quando non rompiamo con decisione area 21 5 50 never say never cioè tutto può ancora succedere questa candela di accelerazione di ricopertura mi sembra decisamente non trascurabile so che tu vorresti una discesa per chiudere questo gap ma per il momento almeno non se ne parla e se non ne abbiamo approfittato oggi e facciamo questa considerazione pratica se volete se non ne approfittiamo oggi che c'è un disastro arrivato sui mercati dopo i no fermi rolls vuol dire che il mercato tutta questa voglia di scendere non ce l'ha tutto qua chiaro anche a mirko dice sì basterebbe chiudere il gap per ripartire sì ma lo so questo è quello che vorremmo però ragazzi diciamo la verità il gap c'è solo su milano non c'è su francoforte non c'è sullo standard and poor quindi non è che il gap di milano impedisce ai mercati di partire non contiamo nulla questo infatti lo standard and poor 500 e come vedete che app non ce n'è anche qui candela di riaccelerazione al rialzo parliamo di un grafico h4 quindi operativamente parlando tentativo di recupero interessante peccato peccato va detto subito che lo standard and poor 500 abbia rotto al ribasso dopo aver violato al rialzo quindi sia ritornato sui passi in maniera così vertiginosa perché si era rimesso long anche con un pullback un po sporco vediamo cosa fa nelle prossime ore resta l'area target supportiva a 1.890 qualcosa di meno 1.885 e l'area target invece a livello di resistenza in area 1.965 1.970 di milano abbiamo già detto la spagna non è da meno il mio pedro non me ne vorrà mio pedro il mio amico pedro non me ne vorrà sono appena atterrato in italia quindi oggi sono a casa con la mia famiglia sono particolarmente contento di questo come vi dicevo non me ne vorrà però la spagna è ancora sotto schiaffo molto preciso l'indice spagnolo vedete sono abbastanza sorpreso io non l'ho mai analizzato in passato ora mi tocca farlo per forza se no mi fa fuori dal punto di vista pratico vedete abbastanza evidente l'area di resistenza dinamica interessante con finalità speculativa potrebbe essere un indice tutto sommato interessante da tradare perché se va in breakout a differenza degli altri è stato davvero molto preciso e purtroppo vedi nicoletta la spagna stamattina il gap lo ha chiuso sulla sull'esagerazione è andato a chiudere questo gap che c'era qui quindi l'indice è pulito ed è libero di viaggiare io non mi nascondo che se mi brecca rialzo questa zona di resistenza vado long babbara babbara vediamo le commodity currencies sempre laterale positivo però il dollaro australiano audi new zealand dal punto di vista pratico mi sembra ancora in fase di di lotta con questa zona di supporto semi semi statica dai a questo punto statica ha mollato la dinamica che stavo monitorando e si è venuto appoggiare sul minimo precedente quasi in maniera precisa però è un titolo che mi sta negando mi ha legato la divergenza ecco quando si dice mica sono infallibili mi ha negato la divergenza vedete la divergenza aveva dei massi dei minimi crescenti vedete con dei minimi decrescenti sui prezzi ora abbiamo fatto un nuovo minimo quindi questa divergenza è cotta e mangiata adios non serve più a niente si ricomincia tutto da zero come tipo di analisi grande per venduto tutto sommato direi ritornando un'analisi classica e non legata al mio modello di intervento di intervento antonio così mi distrae mi sembra che se dovesse beccare a 1 10 va su bene adesso mi permettete facciamo sempre tanto forex indice in commodities oggi sono spettatore interessato sull'azionario quindi switcherei sulla piazza formazioni ci perdiamo qualche minuto di più e soprattutto non vado di corsa come un matto come faccio sempre stella della giornata e stella anche del mio portafoglio in questo momento sicuramente monte dei paschi di siena più 4 40 ribadisco il concetto sta battendo siamo entrati su monte dei paschi di siena su una logica divergenziale che vi ho evidenziato giorgio dice permettiamo che vi ho evidenziato già in passato rimane questa bella struttura io ho lavorato in questo momento sulla come si dice buy on dip compra sulla debolezza vedete abbiamo comprato sulla fase più bassa di monte dei paschi confidando che questa cosiddetta animali anomalia che poi si chiama divergenza fra andamento del cci e andamento dei prezzi potesse essere propedeutica ad un forte rimbalzo il rimbalzo è partito questo è un 24 ore come grafico e sembrerebbe puntare come dicevo poc'anzi ben al di sopra di area 180 dove troviamo una prima resistenza degna di nota è un work in progress me lo seguo con grande attenzione perché il titolo più positivo che il portafoglio e vediamo cosa succede adesso andiamo in ordine cronologico perché su alcuni titoli appunto c'è da rivedere un po l'analisi queste a due a il trend è abbastanza è abbastanza chiaro così non saltiamo nulla il trend è abbastanza chiaro evidente l'importanza dell'area supporto 1.10 anche se recentemente ha fatto un piccolo ma evidente falso breakout quindi direi che abbiamo due livelli di prezzo da guardare con attenzione un dinamico a 1.11 e uno statico a 1.08 attenzione perché l'eventuale violazione soprattutto dello statico sancirebbe la fine di questo poderoso movimento rialzista non so se fabio è collegato sei ancora short su a2a fabio o hai approfittato un po di debolezza stamattina perché se non ricordo male avevi shortato o hai shortato atlantia perché a2a ha rotto a rialzo quindi nessuno short ha ragione di esistere in questo momento quindi salvo che non vogliate entrare sulla forza sicuramente andare short non potete non dovreste fra virgolette farlo detto di a2a un'occhiata ad atlantia forse era qui che fabio era short ce l'aveva detto ieri stamattina sulla debolezza dei mercati ha avuto un discreto arretramento anche qui stiamo lavorando l'ipotesi di un falso breakout con rientro immediato figura interessante di potenziale invenzione in questo momento perché non è una figura bruttina anzi una candela che mi indurrebbe a rivedere probabilmente certe valutazioni non sono in posizione vediamo azimut che sto riaspettando a su azimut e cnh un problema di problemi ne ho tanti ma in particolare con questi due ultimamente perché ho comprato azimut su quello che ritenevo essere un supporto davvero molto interessante purtroppo la recente debolezza dei mercati ha portato alla violazione ma rimango dell'avviso che sia iper venduta e soprattutto come sapete e come vedete rimango dell'avviso che sia in grande divergenza di alcista quindi dal punto ciao fabbiotto dal punto di vista pratico mi va di ricomprarla di rientrare aspetto il breakout ciao antonio buon weekend anche a te aspetto il breakout chiaramente di questa zona prezzo di quest'area voglio comprare all'avvenuta perforazione della trendline quindi magari con un po di ritardo rispetto all'asse prezzi ma preferisco avere una conferma più concreta quindi area 19 50 vado by long probabilmente con target 21 e 50 22 questa è l'idea situazione molto simile come vedremo fra un po su cnh andiamo a banco popolare più 0 70 eccolo qua purtroppo ha perso quel supporto statico fa fatica a rientrare però occhio occhio perché se il mercato ricicla rialzo ricicla con i bancari lo sapete e qui c'è ancora una volta una enorme enorme divergenza rialzista quindi anche qui dovremmo ragionare allo stesso modo se avessimo chiaramente cartucce da da sparare credo proprio che ne abbiamo un po tutti perché in base agli ultimi webinar non è che siamo così esposti al rialzo almeno io non sono non sono ancora carico quindi ho spazio se mi ritorna al di sopra di resistenza di brevissimo e soprattutto mi ritorno al di sopra dell'area statica è di nuovo by long mai mediare marco mai domanda di marco conviene mediare sul banco popolare mai mediare nessun titolo il concetto di media andrebbe abolito dai vocabolari di analisi tecnica e dai manuali di borsa da qualunque dizionario del mondo io non ho mai visto una persona guadagnare non tanto sulla singola operazione di media guadagnare in generale quando parla di media è come un approccio valido la media è una dannazione è un'operazione tardiva su un'operazione sbagliata è una pezza colori e con le pezze a colori perdonatemi il termine molto molto come dire poco elegante con le pezze a colori a mia memoria non si va da nessuna parte questo è il mio pensiero modestissimo che vi esprimo con la consueta sincerità detto ciò banco popolare va riveste va rivista sopra area 13.40 13.50 con un intatto intatte possibilità di allungare almeno verso area 14 50 marco grazie a te fabrizio dice vedi marco voi non leggete le domande io sì chiaramente non potete vederle grande pietro d'accordissimo mi sono bruciato alle mie prime esperienze mediando allora quando io dico una cosa non è che la dico perché ho letto i libri questa viene registrata ma non è un problema l'ho detto più volte tutte le cazzate che state per fare che farete e che avete fatto sui mercati io le ho fatte prima di voi quindi parlo sempre per esperienza diretta e reale e non filosofeggiando come fanno tanti altri quindi quando io vi dico che le medie non si fanno è perché mi sono bruciato le dita per usare un eufemismo mediando e credendo di aver sempre ragione invece bisogna riconoscere con serenità quando si è sbagliato e mollare la presa detto ciò andiamo a vedere monte paschi di siena più 4 59 abbiamo già parlato direi vai 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 bella spingi 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 non aggiungo altro perché magari porta sfiga barca popolare emilia romagna va a fare pullback quasi sicuramente lunedì in area 7.70 dopodiché andrà a valuta dato alla situazione perché abbiamo visto che sulle popolari c'è un movimento interessante di ricopertura se emilia romagna non va a fare pullback ribassista qui e trova la forza chiaramente di riportarsi al di sopra della resistenza di questo croce via quindi se invece di fare quello che dovrebbe si porta al di sopra è un buy abbastanza scontato e bisogna avere il coraggio di seguirlo perché può fare una bella accelerazione negando una grande figura ribassista quindi è la negazione di una evidente logica ribassista peraltro denotando la tenuta di un supporto vedete statico dopo il dinamico che aveva rotto quindi si sta muovendo in maniera molto pulita e molto direi tecnica 1 2 3 4 e quinto punto di contatto l'altro ieri quattro giorni fa e come vedete a retto quindi vediamo se pullback perché se va oltre il pullback è da comprare secondo me anche qui c'è divergenza di azista hubi dice a ezio mi scrive come socio che ho il diritto di recesso a 7.288 ma il titolo non decolla adesso ci arriviamo a ezio allora detto di popolare emilia romagna un'occhiata anche a banca popolare di milano più 0 45 ma velocemente un'occhiata al dax scusatemi se non perdiamo il filo veloce 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 se lo trovo eccolo qua siamo a 61.8 di fibonacci ragazzi e attenzione perché siamo 61.8 di fibo e inizia a essere una soglia tecnica interessante a questo punto ci tiriamo anche questa resistenza e andiamo a vedere se riesce a portarsi al di sopra della stessa ritorno all'azionario perché le popolari dovrebbero ripartire perché dal punto di vista grafico mi sembra che ci siano delle strutture esquisitamente tecniche mirco molto interessanti siccome il movimento del 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 settore di solito è abbastanza coordinato e sono dell'avviso che se vediamo un movimento interessante sul banco popolare o su popolare di milano che sembrano impostate proprieticamente per farlo il tutto si dovrebbe riverberare sull'intero settore compresa chiaramente hubi tutto qua nulla nulla di legato ad analisi fondamentale o d'altro perché io come sapete non ne faccio andiamo su buzzi unicem eccola qua rimane in questo splendido canale laterale rialzista in una zona purtroppo per noi neutra dove non possiamo fare nulla iniziano a lampeggiare i listini giovanni dice un long sopra 0 90 per bpm perché un long sopra 0 90 per quale dico per quale motivo tecnico io in questo momento una logica per longare con tra virgolette con sicurezza non ce la vedo onestamente non mi sembra che ci sia da longare perché sopra 0 90 anche perché il rapporto rischio rendimento ostante questa resistenza è molto è molto stretto giovanni invece vedo un supporto statico che ora funge da resistenza giovanni con tutto il bene che ti voglio e te ne voglio io non lo vedo vediamo se scalo in h4 che vediamo il supporto giustatico di cui si parla giovanni perché se giovanni dice che c'è ci sarà cinque anni di grafici sono tanti ci mettiamo due giorni aspettarli allora lo statico a cui giovanni fa riferimento boh sarà che io non sono capace di vederli no giovanni no io non lavoro con gli statici quindi non sinceramente non ti posso aiutare in ottica squisivamente speculativa questo chiaramente un grafico h4 cambia un po tutto ha breccato la resistenza ripeto il mio dubbio è solo che fra un po arriva sotto resistenza e lo spazio non mi sembra tantissimo tutto qua non voglio condizionarti né positivamente né negativamente non mi compete andiamo a vedere cnh industrial su cui vi ricordo vi ho accennato poc'anzi alla una recente bruciatura scottatura sì antonio vediamo anche fineco alla fine salvo che non ti serva vederlo adesso perché devi entrare perché sa per chiudere piazza affari se puoi aspettare lo vediamo nel ciclo finale dimmi te su cnh sono ho la stessa predisposizione che ho su azimut sei già long quindi puoi aspettare perché il mercato sta rimbalzando sei tranquillo divergenza rialzista che a me piace tanto aspetto dopo la mancata tenuta del grande supporto strategico aspetto che mi vada a chiudere sopra area 6 e 10 6 e 15 per entrare long sul titolo con target molto ambizioso allo stato attuale bisogna avere la pazienza di sapere aspettare anche se ti fa in faccia un più 3 per cento oggi eccoci ad enel più 2 16 niente di particolare da segnalare una situazione abbastanza interlocutoria da verificare interlocutoria perché perché mi sarei atteso da enel maggiore spinta dopo che ha rotto questa resistenza dinamica abbastanza ben costruita invece sta ballonzolando attorno alla stessa quindi mi priva di riferimenti abbastanza ciao dario come no la facciamo su jeffi ma me lo devi ricordare all'ultimo per favore insieme ad antonio ricordatemela all'ultimo perché ci sono troppe domande me le perdo e poi non ti riesco ad accontentare lo faccio volentieri eccoci ad enel andiamo a dare un'occhiata ad enel green power su cui sono long break al rialzo il mio gioiellino sta per partire target ambizioso rialzista perché figurati grazie a te perché ritengo che andrà a cercare un impatto su questa grande resistenza dinamica quindi l'ambizione chiaramente da verificare giorno per giorno e di vederla arrivare verso area 1.85 1.90 è un'ambizione che andrà misurata e verificata giorno per giorno ma è nata da una evidente bellissima divergenza rialzista che ha appena iniziato a fare un po di strada finalmente nella direzione auspicata quindi tenere con discreta convinzione eccoci ad eni molto chiaro il trading range in cui si sta muovendo direi nulla che non sia facile da tracciare per chiunque di noi area 15 area target chi ce le asa le tenga ben strette e si preoccupi invece solo sotto 13 perché mi sembra un trading range ben definito exor più 22 arrivo da te giannetto scusate quando mi fermo non è perché mi è finita la voce anche se potrebbe succedere ma perché arrivano domande allora dal punto di vista pratico occhio ad exor perché sta per andare ad impattare la resistenza dinamica anche questo caso abbiamo una divergenza impura ma rialzista impura nel senso che il secondo apice è a passo dopo aver bucato la zero line una volta del cci quindi meno forza potenzialmente ma dal punto di vista squisitamente grafico una exor sopra area 40.50 porta chiusura di tutte le posizioni short domanda di giannetto che magari vorreste fare in tanti la forza della logica divergenziale si esaurisce la prossima resistenza dinamica o con la formazione di un'altra opposta divergenza se ti faccio vedere il grafico di stm sarei portato a risponderti divergenza chiama divergenza non è così una divergenza funziona manda il mercato di solito nella parte opposta a quella in cui si è creata perché è una figura di inversione quando il mercato fa un altro ciclo in senso opposto molte volte inverte ancora con una divergenza ma potrebbe anche semplicemente impattare una grande area di supporto di resistenza e fermarsi lì quindi non c'è da valutare una logica divergenza long divergenza short non c'è un meccanismo scritto o comunque valutato più che scritto di stop and reverse continui magari fosse così semplice devo dire che su stm negli ultimi macro movimenti gli ultimi quattro c'è stato un efficacissimo funzionamento delle divergenze tant'è che un grafico che ho preso per il libro in cui gli ultimi grandi macro movimenti di stm sono stati sempre anticipati da divergenza long e poi short e poi di nuovo long e poi di nuovo short spettacolare eccoci a fiat chrysle più 2 36 per cento anche qui abbandoniamo questo vecchio grafico del mio pc casalingo tracciamo le nuove dinamiche di resistenza attesa ad un test imminente credo lunedì di area 12.50 ma è ancora messa malaccio o maluccio se preferite fin meccanica peccato che non abbia fatto 10.65 10.60 ossia questa zona statica e dinamica di supporto è un crocevia di livelli tecnici e sono quelle zone in cui mi piace chiaramente intervenire sì già detto normalmente se ho una divergenza rialzista cerco la resistenza su cui chiudere se ho una divergenza ribassista dopo essere entrato cerco un supporto su cui chiudere lo short allora su fi meccanica come vi dicevo 10.60 la buy zone nell'immediato medio breve potrebbe dovrebbe andare ad allungare figurati in area 12 eccoci a generali neutrale 0.12 oggi no comment mantiene benissimo l'area 15.50 se ricordate uno dei titoli che abbiamo di cui abbiamo parlato con viaggio l'altro giorno in particolare a viaggio se non ricordo male piacevano molto generali e mediaset e mi sembra che stiano andando bene ambe due quindi una buona intuizione meno tonica tutto sommato neutrale il rendimento di generali mi sembra invece più corposo quello di mediaset ecco scentes a san paolo anche qui sono long e spero di poter brindare lunedì mattina all'abbandono definitivo perché ci sta provando già diverse volte compreso oggi di questa resistenza dinamica ovviamente se rompe questa resistenza dinamica non la rompe solo intesa intesa il fuzzinib sono la stessa cosa quindi se intesa vi rompe questa dinamica il milano vola sopra 21.5 senza battere ciglio vediamo il dax ha sentito il 61.8 di fibonacci e sta arretrando leggermente buono il sell sull'euro eccolo qua è partito un po più 86 euro niente di particolare però dal punto di vista è esquisitamente pratico come dicono in tanti sono soddisfazioni scusatemi un attimo mi perdonerete se controllo un conto real quindi una velocissima pausa molto bene sì 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 allora scusate un attimo ragazzi o una mezza o quasi due quasi quattro etti di dax comprati quindi portiamo a casa qualcosina la metà via scusate ritorno da voi eccola qua ok ci risiamo scusatemi eh allora dal punto di vista pratico come dicevamo 61.8 di fibonacci precisissimo da parte del dax vediamo che cosa combina ritornando a intesa san paolo eh cosa scenderà ancora sergio ehm mimo mi chiede ehm mimo mi chiede ehm mimo mi chiede sono dovuto entrare tardi se è pieno di chiudere fare un ultimo check su mibe dax se ne sarei grato ehm mi sono perso l'occasione di andare long sul dax dopo il minimo intorno a 9.4 ehm non non chiuderei il dax mimo quello che ho appena fatto prendendomi due minuti di pausa e chiudere la metà di quelli che avevo comprato sui minimi quindi un po' fra virgolette di di money management basico c'è stato un bel rimbalzo porto qualcosa a casa e più tardi decido se ricostruire l'intera posizione o ne lascio solo metà ehm tutto qua arriviamo un attimo intesa a comprare eh a questo punto aspetta il breakout sì per il momento di venerditi come rimanere fuori eh aspetta il breakout e qualora ci fosse appunto un breakout rialzista di quest'area 3.20 e 3.22 si potrebbe tentare un posizionamento io sono già in posizione ma sono entrato chiaramente su diverse dinamiche di mercato rispetto alla situazione attuale arrivo per tutte le altre richieste eccoci su Luxottica niente da segnalare se non la splendida tenuta di questo supporto dinamico che vi aggiungo adesso sul grafico se vado bene a memoria infatti è così e quindi solida solida tonica eccoci a Mediaset più 1.41 oggi ha rimbalzato molto meglio ieri oggi è meno appariscente il risultato di Mediaset ma ha fatto un gran bel lavoro già ieri ieri se non sbaglio ha fatto il 4% di recupero si avvicina a un'area di resistenza interessante nell'intermedio 4.40 dove potrebbe leggermente decelerare però non è non è fra le mie strutture grafiche preferite ma non c'è dubbio che in questo momento il pericolo di una eventuale debacle del titolo sia sotto area 3.85 Aldo mi dice mi sono perso Eni si su Eni non abbiamo speso davvero tante parole abbiamo detto che molto probabilmente la vediamo in area 15 e 30 ha resistenza di questo triangolo simmetrico e sotto 13 invece è spacciata e va shortata non abbiamo detto di più perché il grafico appare particolarmente chiaro nel brevissimo nel brevissimo ci sarà da verificare l'eventuale test oramai imminente di area 14.70 se supera 14.70 ripeto la proiezione immediata rialzo ragazzi troppe domande non riesco aspettate una fatemi finire l'azionario per favore per quanto riguarda Mediobanca supporto strategico sempre in area 8.50 attenzione niente di particolare in tal senso da segnalare eccoci a Mediolano un più 4% oggi ha dato dei dati sulla raccolta molto buoni davvero davvero molto positivi che spiega questo questo recupero cacchio se li dava qualche giorno prima le avevo comprate era meglio detto ciò Mediolanum si sta vedete sta cercando di riportarsi sopra la vecchia area di resistenza la qualcosa si qualificherebbe come falso breakout e dovrebbe barra potrebbe spingerla abbastanza rapidamente verso area 7.30 questo è quello che sembrano dire i grafici Moncler meno 2.45 touch precisissimo quasi millimetrico del supporto dinamico che se non sbaglio segnalava Fabio ieri se non ricordo male quindi attenzione questa potenzialmente è una buy zone per Moncler se poi volete aspettare lunedì dovete farlo per forza perché Piazza Affari è appena chiuso ecco l'ultimo lampeggio dei titoli andiamo su Prismian ballongelo attorno al dinamico non mi piace fuori più 6.35 per Saipem lo dicevamo ieri strano che non parta sui 7 7 è una zona importante 7 è una zona dove chi ci crede deve accumulare beh da lì di qua da lì di là finalmente ha dato una reazione importantissima e a questo punto si proietta con buona probabilità verso area 8.85 8.90 diamo un'occhiata anche a Salvatore Ferragamo meno 1 oggi inseriti in un contesto laterale ribassista di lungo non sorprende meno 0.04 snammerete gas sempre al palo aspettiamo sempre STM vi ricordate sul settimanale di lungo scusate pulisco un po' il grafico aspettiamo il 7M in questa zona dove riteniamo di poter tentare un acquisto con un rapporto rischio rendimento interessante lo ha sfiorato stamattina parliamo di area 5.50 stamattina ha fatto 5.94 e adesso è già di nuovo a 6 attenzione forse non ci riusciamo però l'idea è di comprare chiaramente questa eventuale debolezza e quindi questo mega supporto di lunghissimo termine ci sono candele settimanali scalando sul daily quindi la dinamica che osserviamo abitualmente ecco qui siamo ancora in una zona tutto sommato un po' complessa meno 3.42 oggi telecom brecca al ribasso questo bel supporto statico bello una volta tanto che mi affido agli statici li buca questo bel supporto statico che sembrava aver disegnato ieri il quadro si fa un po' lo di la verità è meno bello di quanto potessi immaginare fino a qualche giorno fa iniziano a esserci dei segnali di debolezza in uno dei trend più stabili e solidi degli ultimi tempi a questo punto meglio starne alla larga e rimandare un'eventuale analisi di ritorno alla positività qualora dovesse chiaramente riuscire a superare questa logica di resistenza dinamica non prima per il momento mi sembra davvero confermare la debolezza che la violazione di area 1.15 esprimeva da diverso tempo eccoci a Tenaris anche qui buono il rimbalzo tutto sommato più 2.39 si porta verso area 8 0.90 scusatemi 0.90 aveva uscito non lo so 12.50 terna come snam neutrale TODS meno 4.62% ma la tempora currunt ha rotto anche l'area di supporto statico dei 77.50 questa non è buona non è assolutamente buona come cosa per TODS però ricordate ieri abbiamo tracciato un'area di supporto dinamico così alla buona e a quanto pare non avevamo sbagliato e sarà l'area dei 73.60 73.50 l'area che si presterà ad essere una potenziale buy zone eccoci a UbiBanca non so chi me l'avesse chiesta UbiBanca rimane inserita in un contesto come vedete palestemente correttivo niente di particolare da segnalare se non che sta disegnando in questo momento una logica divergenziale abbastanza interessante e il motivo per cui dicevo occhio perché se il settore popolare rimbalza UbiBanca ad esempio può essere una preda abbastanza allettante e per catturare questa preda però bisognerà aspettare la divergenza c'è dobbiamo aspettare la rottura di questa resistenza quindi una chiusura sopra l'area 6.60 Unicredit più 1.07% oggi rimane inserita nel contesto più recente quindi con resistenza 5.75 Unipol sai mi piaceva ieri mi piace anche oggi perché vedete penso vada ad impattare questa resistenza di lungo bisogna muoversi ad entrare sarei dovuto forse entrare già ieri non l'ho ancora fatto ieri vi avevo detto perché chiaramente la discesa dei mercati di stamattina non è che mi abbia dopo il dato non è che mi abbia eccezionalmente esaltato però mi sembra un titolo potenzialmente impostato bene al rialzo al rimbalzo più che al rialzo infine Ux che non andava benissimo negli ultimi giorni oggi fanno più 4.78 il mio libro esce ad ottobre spero perché stavo parlando con l'editore oggi a pranzo e forse ad ottobre riusciamo a presentarne come dire la copertina al 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 tolexpo nel senso che il libro è sostanzialmente finito però ci sono dei problemi proprio in livello a livello tipografico ma all'expo lo presenterò ufficialmente si potrà sicuramente prenotare per poi riceverlo comodamente a casa almeno questa è la nostra è la nostra idea allora abbiamo finito adesso sparatemi le domande che volete prima l'azionario e poi il resto per favore se non ricordo male c'era Yux no c'era Fineco giusto c'era Fineco c'era Sogefi per Dario mamma mia me lo stavo dimenticando di nuovo non mi entra proprio sto titolo Dario povero Dario sono due settimane che gli prometto per email che al primo webinar lo faccio e me ne dimentico sempre ora ce l'ho allora abbiamo detto Sogefi e Fineco Bank partiamo da Fineco Bank e poi anima per Michele ok Fineco Bank interessantissima molto bello mi piace lo dico subito divergenza rialzista anche se la vedete poco vi garantisco che c'è perché se zoomo un po' se ci riesco aspettate un attimo vi faccio vedere che il CCI all'ilà di tutto è crescente e i volumi sono arrivati a un punto di compressione importante vedete che il CCI ha gli apici leggermente crescenti me lo date per buono o ve lo devo segnare vedete questo è il primo non ci riesco è qua sotto no no è buono dai è un CCI crescente non visibilissimo ma sicuramente non ha minimi decrescenti il che indica divergenza rispetto all'asse prezzi il buy long per quanto mi riguarda è già scattato nel senso che me lo son perso bisognava già entrare che sta facendo oggi più 1 più 1,92 bisognava entrare già ieri addirittura se ne è strafregata della correzione per me è un buy long ciao Francesco è un buy long e credo che affiancando a questa misurazione la logica di Fibonacci le aree prezzo dove può arrivare sono abbastanza chiare ed interessanti in primis direi la zona 6.75 pari al 50% di Fibonacci e poi da valutare chiaramente situazioni successive c'è da notare per gli amanti degli statici che ci sarà una piccola resistenza 6.14 6.15 che violeremo forse lunedì e la violazione di questa resistenza statica rappresentata chiaramente dalla presenza di due minimi perfetti nei precedenti periodi se viola questa resistenza statica non escludo se qualcuno mi manda un sms di entrare long lunedì mattina oramai le ce son fe come si suol dire detto di Fineco Sogefi più 3.16 oggi andiamola a vedere Fabrizio Fabrizio arrivo 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 faccio Sogefi e poi sono da te per quanto riguarda appunto Sogefi dinamica ribassista di lungo termine direi più che chiara più che evidente non ci volevo io per dirlo non disegna divergenza rialzista disegna semplicemente una forma divergenziale al rialzo nel senso che comunque noi stiamo misurando in questo momento oh madonna stiamo misurando in questo momento una crescita dei valori dei commodity channel index che contestualmente invece vedeva una decrescita dei valori prezzo quindi dal punto di vista pratico mi sembra che l'eventuale violazione al rialzo di area 1. vediamo quant'è quest'area di preciso 1.95 si ha un bel segnale long con potenziale target ambiziosissimo in zona 2.50 interessante io non lavoro sui titoli sottili però se questa rompe può spingere davvero molto ma molto bene non mi sembra che abbia grandi ostacoli sul suo cammino allo stato attuale però va considerata ancora in una posizione molto short buona come analisi si è soddisfatta ho aspettato tanto per averla perfetto Dario grazie a te e adesso abbiamo Fabrizio Mimmo che mi dice se non fossero si parla chiaramente di quanto abbiamo visto su Fineco prima il concetto della divergenza minimo chiaramente in maniera tradizionale è vedere minimi decrescenti sui prezzi quando parliamo di una divergenza longa ovviamente il contrario se fosse short e minimi crescenti sull'indicatore quindi un andamento anomalo una decorrelazione dovrebbero fare la stessa cosa fanno due cose due cose diverse semplifichiamola così è evidente che se vedo dei prezzi crollare comunque quindi minimi molto violati al ribasso il CCAI non cresce ma fa 0 a 0 nel senso che fa due minimi uguali è comunque una logica divergenziale l'indicatore comunque non segue l'asse prezzi e segnala un eccesso nel movimento che visualizziamo sull'asse prezzi quindi è comunque un potenziale segnale di inversione potenziale segnale di inversione che va poi subordinato al breakout di una resistenza di un indicatore come il superprendo di quello che del zero line del CCAI o di quello che ritenete più opportuno Michele mi chiede anima e poi vado a vedere l'euro me l'aveva chiesto prima Michele sto rispettando l'ordine cronologico anche perché sull'euro sono interessato quindi ci vado volentieri a guardarlo vediamo anima quindi tutto il settore risparmio gestito chiaramente sotto osservazione dopo l'upgrade sostanziale dei dati che è arrivato stamattina da Mediolanum questa è anima holding in fase correttiva dopo aver perso in maniera direi molto evidente ed efficace questa zona di supporto dinamico possiamo archiviarla ovviamente non ha più l'importanza che poteva aver prima adesso parla urla ad alta voce grafico che c'è una resistenza in area 8.10 8.15 sopra quel livello si potrebbe assistere a un recupero delle quotazioni abbastanza interessanti anche in questo caso possiamo parlare di una sostanziale anche se lo vedete non è pulitissima tenuta di una zona statica con tradistinza fra area 7.30 e 7.45 Terenza mi chiede uno sguardo su Autogrill dopo devo devo accontentare chi mi ha chiesto un'analisi sull'euro dollaro anche perché era un'analisi operativa in quanto è in posizione scusatemi questo è Autogrill lo vedete andamento abbastanza come dire incasinato non mi piace tanto lo dico subito mi aspettavo e mi sarei atteso una maggiore reattività al breakout di questa resistenza dinamica che era abbastanza chiara e pulita con tre punti di contatto poi c'è stato un falso breakout è iniziato un po' il macello Terenza sul mercato e il titolo che peraltro ha dichiarato ottimi utili o meglio ottimi risultati operativi sull'area Italia ha un po' arrestato la sua marcia diciamo che forse il dato era scontato nell'ultima impennata e adesso fa fatica a mettere un po' la testa oltre se rompe 8.50 abbandona questa fase di congestione è quasi una bandiera se rompe 8.50 chiusura giornaliera si va ancora su detto questo c'era una domanda sull'euro poi una sull'ita 40 Fabio sull'ita 40 si aprisse in gap up al di sopra della dinamica comprerebbe subito o no sempre aspettare chiusura candela è una regola punto le regole sono quelle e non sono derogabili sono derogabili nel termine che se io arrivo a 3.50 dalla chiusura candela e sto una figura sopra e ho deciso che entrerò posso anche non aspettare quegli ultimi 10 minuti però non invertiamo il fattore non aspettiamo 10 minuti della candela H4 e compriamo con 3 ore e 40 a 3 ore e 50 di anticipo non invertiamo le due cose perché c'è una grande differenza Fabrizio mi chiedeva sul intanto il DAX stabilizza in quella zona il nostro euro sta viaggiando muy bien muy bienito eccolo qua sta venendo giù ha sentito la resistenza non sono contento per il guadagno che mi sembra Fabrizio mi abbia seguito quindi mi fa piacere è sciolto a 1.12.96 anche Fabrizio dice le lascio correre fino ad 1.11 beh io l'ho appena detto che cosa aspetto aspetto che venga in questa zona che è appunto più o meno l'area 1.11 mi sembra che abbia resistito in maniera perfetta sul target sul target tecnico della resistenza dinamica molto preciso il touch molto precisa la reazione intermarket quindi io onestamente al di là di ciò che non posso prevedere non vedo motivi se il tuo leverage è equilibrato per mollare in questo momento la posizione ti sta dando ragione quindi non vedo motivi per alleggerire in questo caso la posizione che hai in carico questo è il mio pensiero se invece il tuo leverage è sbagliato quindi sei sotto pressione non devi neanche domandarmelo perché la leva porta a fare cattive operazioni riduci la leva e viaggia tranquillo nel weekend con la parte che ti puoi permettere grazie Angelo in effetti è stata una bella segnalazione quella che vi ho dato online molti mi chiedono i segnali ragazzi io credo sia meglio vedere l'operazione quando la farei e quando la faccio di un segnale che vi arriva a casa io poi magari non riesco a commentarlo e via dicendo quindi credo che abbia maggior valenza che io quando vedo qualcosa vi dia delle logiche sul perché per come entrerei anche se poi lo faccio in demo però credo sia sia un maggior arricchimento concorda Roberto sì è una chiave di lettura nuova Roberto tu mi segui da tanto tempo ma mi sembra che abbia davvero maggiore valenza e spero di fare sempre meglio di farvela apprezzare questa valenza anche organizzandomi un po' meglio stavo pensando anche di darvi le password di accesso alla piattaforma voi clienti di tier one in maniera tale che voi possiate guardare la mia piattaforma anche quando non sono in webinar in questo modo chiaramente se mi viene un'idea ripeto la mia sarebbe sempre in demo non posso per legge far diversamente e vi può piacere fate i vostri calcoli vi prendete i vostri rischi il disclaimer lo conoscete in bocca al lupo non è un'idea è un qualcosa di più dico sinceramente sto aspettando l'ok del compliance officer a cui ho fatto questa richiesta e stanno valutando se a livello normativo io non ho nulla da nascondere dobbiamo semplicemente vedere se a livello normativo ha un margine di praticabilità senza chiaramente creare problematiche di alcuna natura quindi in grande trasparenza spero a breve di potervi dare dei user name e password della piatta e potete vedere a qualunque ora del giorno e della notte che cosa sto combinando questo l'abbiamo fatto questo l'abbiamo fatto Ettore ci dice che lo standard in pool dai oramai posso rallentare un po' lo standard in pool si era fermato sul 50 di fibo dice Ettore vediamo aspetta che leggo bene dal dato delle 14 e 30 in 15 minuti e sta provando a romperlo anzi lo ha rotto adesso però sta un po' arretrando nulla è ancora fatto sarà una bella serata adesso mi metto sul divano col portatile di fianco mi guardo un bel film e mi rilasso franco svizzero yen puoi guardarlo angelo si che lo posso guardare chfjpien e stasera pizza e birra con mio figlio grande che vuoi di più dalla vita dicevi franco svizzero yen questo è il mickey allora si angelo eccolo qua in quale pizzeria ce ne sono due o tre che mi piacciono a me ne piace una vicino a Trani un paesino vicino a Biceglie dove fanno oltre alla pizza fanno degli antipasti spettacolari si chiama l'altro buco se sei di qua probabilmente ci vado stasera allora per quanto riguarda franco svizzero yen a parte gli scherzi ha testato con grande precisione la resistenza dinamica in zona 123 e 30 123 e 40 dopo lo shutdown post dato perché mi sembra che lo avesse subito insieme allo yen c'è stata corsa all'acquisto di yen come valuta rifugio succede spesso quando c'è una fase risk off di breve la valuta rifugio per l'antonomasia è lo yen qualora rompa 123 e 40 questo fa il reversal al rialzo e spinge anche bene quindi da tenere sotto osservazione mi fate dare una rapida panoramica c'è qualcun altro che ha bisogno di qualcosa che non sia compilarvi il form di iscrizione per favore allora dollaro yen confermo il fatto che sta rimbalzando su una candela di inversione molto importante euro dollaro sente la resistenza e scende il dax arretra su 61,8 di fibonacci ma non va trascurata l'entità del recupero né sottovalutata il il nickey si prepara non stanotte come avrete corretto lunedì a darci l'imprimato romeno petrolio debole confermo quello che scriveva Aldo il wti quindi light crude sostanzialmente occhio perché potrebbe dovrebbe testare nelle prossime ore barra minuti 44 euro per 44 dollari per azione l'oro è in una zona di interregno ma lo vedo in area 1150 Giorgio mi chiede è inutile la scala logarittmica sui grafici assolutamente no Giorgio se guardi dei grafici storici non puoi che guardarli con la logaritmica se guardi dei grafici di medio breve termine la logaritmica non ha nessun senso per ovvie motivazioni ma se guardi un grafico storico la logaritmica come scala è fondamentale quando parlo di storico parlo di diversi anni di osservazione grazie a te occhio che l'argento rompe il rialzo l'argento rompe il rialzo attenzione cacchio l'avevo comprato davvero bene peccato peccato perché ho subito degli stop stamattina ho compensato con sterline e argento argente e serlina come ho detto vedete non è non è negativa a differenza dell'euro la sterlina sta invertendo abbastanza bene Audi usd neutrale Audi new zealand sempre vicino al supporto ed euro gbp che oggi non abbiamo analizzato non so perché ne approfitto adesso peraltro me lo stava dicendo anche giusto grazie l'ho saltato aveva o meglio stavamo seguendo su euro gbp da diverse ore una certa situazione di potenziare inversione a favore di euro se ricordate ne stavamo parlando da giorni stavamo valutando l'impatto di euro gbp su questa prossima resistenza non ci siamo ancora ci stiamo lavorando come si suol dire stiamo lavorando per voi vediamo se aggiornando il grafico ho qualche dato migliore c'è qualcosa che non mi convince sul grafico devo fare una verifica e quindi rimando questa analisi e dollaro cad molto finalmente era ora siamo contenti mi fa piacere molto debole il che crea uno stranissimo rarissimo e inusuale disallineamento col petrolio lo dico subito questo è il dollaro cad invece dal punto di vista strutturale in questo momento ha un area test imminente oramai direi in zona 1.3150 dove trova questo supporto dinamico strategico se lo rompe shutdown fino a 1.29 standard in pool 500 neutrale recupera mezza candela come diceva etter del grande ribasso milano lo sapete ha chiuso rimettendo la testolina sopra resistenza speriamo bene spagna da monitorare nelle prossime ore perché può essere un bel buy il nasdaq anch'esso abbastanza neutrale parigi neutrale euro stock neutrale tutti in recupero di mezza candela di espansione franco svizzero yen pronto a breccare al rialzo that's it signori grazie a tutti buon weekend riposatevi spegnete i computer non vi permettete di accendere il pc nel fine settimana e se lo fate scrivete solo ed esclusivamente cazzate su facebook perché fa bene alla vostra salute mentale io ne scriverò tantissime e se vi va possiamo condividerle grazie ancora e buona serata grazie a tutti